Benvenuti al video di Capodanno Si lo so voi penserete perché questa nel periodo di Capodanno si mette a fare un gioco di Natale E boh perché a Natale vi ho fatto un picchiaduro ragion per cui ho deciso di farvi vedere un gioco di Natale anche se in ritardo Allora questo gioco è un gioco carinissimo perché c'è un babbo Natale che deve raccogliere regali Tra l'altro perché c'è ciò per lì? E beh allora cominciamo Da notare la schermata in cui dovete scegliere il personaggio e questo babbo Natale indiavolato mi preoccupa un po' No è bellissimo questo Ok andiamo Scendiamo le scale Un regalo Cos'è? Ciao Perché vai avanti e dietro? Buon anno nuovo occhio a te Ok basta Andiamo saltiamo giù Corri 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 Un regalo Un cappello Un cappello Un cappello immagino che sia la vita Saliamo su Un topo 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 Molto Oddio Facco bomba Cos'è? Ciao ilfo Ti seguo Poi arriva qui e torna indietro Ma beh Fatta su Fatta su Fatta su E poi Che ore sono? Due meno dieci Così tardi Andiamo Andiamo Devo correre Devo consegnare i regali Per l'anno prossimo Perché per quest'anno penso Siano già arrivati a tutti No? Aiuto Ma 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 che Che Ma che Bastardi L'hanno messo un topo in un regalo Che devo fare Amo giù? C'è una poltrona che fa dei movimenti strani Guardate Opla Bellissimo Che idea Geniale Ma anche no Andiamo avanti Mi conviene sparare robe Questi buttano topi ovunque Cos'è? Cucu Paccobomba di nuovo Non siete degli infami Un cappello Questa cosa non so cos'è Proviamo a prenderlo Oh Cos'è stato? No Che carino È bellissimo Vecchiatone Che bellissimo No Non fa più No Fa ancora Che carino Ok Basta Cos'è? Madonna Con questi pacchi bomba Basta Un altro Cosa c'è? Un topo Ma C'è la miseria Ho preso in pieno Topo Regalo Lady Snow Lady Snow Lady Snow Lady Snow Basta Ma John Snow Vabbè basta Però c'è una battuta troppo squalida Oh Pinguino Ok Hanno sostituito i topi con i pinguini Ok Ciao Fuorando l'uovo Che cazzo è? Boh L'ho ucciso Ciao pinguino Che cos'è? Che cos'è? Oddio Sono quei casi che Che fa? Pacco bomba Ho fatto Capito che io sto filmando questo coso per cavo danno e quindi le bombe sarebbero anche opportune Però insomma Però insomma Da notare che non continua oltre questo punto Sono caduta giù? Questo era? E' cortissimo Caverna del ghiaccio Cos'è quel coso lì dietro? Opla Dove devo andare secondo voi? Ma Lì sto un coso La Andiamo avanti Oh Regale Che mi fa questo? Ciao bambi Come va? Che ho fatto con bambi? Volevo fare buon anno nuovo al bambi Vabbè vai cagare Oh no Io odio questi punti qui Perché io cado E appunto Sto un pochino facendo male Cos'è stato? Ah ho preso un cappello Un altro bambi Buon anno nuovo E sparisce Vabbè Oddio Ah Ah Aiuta Ok Dove devo andare? Mi spiegate dove devo andare? Ho paura di buttarmi giù E se muoio? No Cos'è? Un pigui Pinguini ovunque Cosa? Oddio Cosa? Sono diventato Oddio Mi spiegate? No perché io non lo so Mi sono fatto male Ehi la nuvola Nuvola Ma guarda Dura un secondo questa nuvola Mi sto facendo un male Mi sto facendo un male atroce Oh Che ci esce? Paco Boh Bastardi Mi sto odiando tantissimo Oddio Campana Quindi sto andando bene Quindi sto andando bene Andiamo andando di là E muoio No perché mi mettete in tenue Le maledette Che ci sta? Ciao elfo Uh No è bellissimo Bellissimo Sembra Calimero Io vi vedo Basta Ciao campana Ciao campana Tra l'altro Informo tutti Che mi sto Leggermente fissando Con una canzone Che Secondo me Comincerà Ad uccidermi Che si chiama In campana Che viene cantata Da una capra Ma questo livello Non per esempio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Dove devo andare? Devo salire su Secondo voi Devo salire su Eh se Ma che mi trovo qui? Vediamo se salire su O non si può salire su Quindi non devo salire su io E ovviamente Io manco La nuvola Aiuto Sto facendo Un male cane Ma riuscirò A prendere Questa maledetta nuvola E sono morta Oh Ce l'ho fatta Eh vabbè Il pinguino Dimmi che ce la faccio Si 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 Muori Muori coso Ok Ho paura di andare Ma Pinguino Altro pinguì No 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 Sono morta e tornata all'inizio È giusto Ciao bambi Buon anno nuovo Bambi Tra l'altro Ha degli occhi Leggermente grossi Ah no Qui devo saltare di là Ragazzi siamo al punto di prima Il cileno vi giuro Stai visto Troppo incazzando Tantissimo Mi sta venendo da piangere Pulsimo punto Perciò ci vediamo al prossimo video Tanti saluti da me E bambi E buon anno nuovo a tutti Tranne che è babbo natale Perché mi sta facendo morire troppo Buon anno nuovo a tutti Ci vediamo al prossimo video Che sarà il primo del 2014 Uscirà domani Ciao ciao